eccoci ancora tra di noi amici carissimi ore 19 come sempre guardiamo quello che sta accadendo è inutile dirvi che c'è la rifa hanno hanno chiuso giochi e scommesse ma potete scommettere sulle regioni giallo rosse o arancioni ogni giorno si paventa la chiusura di una regione poi si cancella la campania che era una delle regioni più rosse d'italia è diventata una regione gialla la calabria non ne parliamo anzi ne parliamo anzi parliamo un attimo della calabria parliamo un attimo della calabria la povera la povera presidente iole morta qualche giorno fa poverina poverina già si sta rivoltando nella tomba per quello che stanno combinando nella sanità della regione calabria guardate avevamo deciso avevo deciso di farvi vedere i video i video le interviste di questi personaggi ma siamo e sono talmente mortificato talmente talmente fuori di me da quello da quello che raccontano che dicono che dal tentativo di volgarissimo di imbrogliare i cittadini che mi rifiuto di farvi rivedere in faccia ma leggiamo quello che dicono cioè rendetevi conto il governo aveva nominato un commissario straordinario tutti i commissari straordinari ricordo a tutti voi ma lo ricordo prima me con i nostri soldi questi commissari straordinari guadagnano decine centinaia di migliaia di euro in confronti anche a fronte a loro i parlamentari sono dei pizzaioli sono dei 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 portaborse sono dei dei venditori di bruscolini centinaia di migliaia di euro per fare i commissari con poteri enormi viene nominato questo commissario della sanità dal dal presidente del consiglio conte è stato nominato il commissario della sanità un certo cotticelli che doveva doveva gestire l'emergenza covid e quindi con milioni e milioni a disposizione milioni e milioni che vengono sottratti alle partite iva ai baristi ai ai lavoratori vengono sottratti milioni e milioni per finalmente rivoluzionare la sanità calabrese e dare dare certezza ai cittadini calabresi di essere assistiti al meglio durante durante l'infezione covid viene intervistato qualche giorno fa questo cotticelli uomo di fiducia del presidente del consiglio e cosa dice dice ma ma io non lo sapevo non lo sapevo che devo fare il piano covid nessuno me lo aveva detto e quindi io non l'ho fatto quindi non solo non ha fatto nessun piano covid l'esperto del presidente del consiglio ma non solo non l'ha fatto non ha neanche speso i soldi stanno lì buttati da qualche parte e non sono stati investiti allora allora ieri l'altro ieri da giletti è stato portato in trasmissione è stato intervistato ecco qui l'intervista mi vergogno come uomo come cittadino come italiano mi vergogno ma ve lo faccio vedere calabria ecco qui la versione di cotticelli guardate sono stato drogato il giorno dell'intervista non ero lucido sto cercando di capire con un medico cosa mi è successo cioè invece di dire sono un povero sciocco e non so fare il mio lavoro e forse ho rubato anche i soldi perché non ho fatto quello che dovevo fare mi hanno drogato ha detto mi hanno drogato ma ma non questa è una follia propongo 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 al sindaco di dove risiede propongo fatelo visitare per cortesia da qualcuno di molto bravo perché ci potrebbe essere bisogno di un tso perché una persona così importante a cui viene data la gestione della regione calabria in commissariamento afferma in televisione davanti a 4 milioni di cittadini ho detto quella frase che non ho gestito la sanità perché ero drogato non mi sentivo bene non ero io non mi riconosco era ero io ma ero drogato è terrificante è veramente terrificante ma non è finita qui allora primo primo chiediamo a ogni cittadino calabrese a ogni avvocato a ogni magistrato di fare immediatamente una citazione giudiziale contro questo tizio ricordiamolo dottor cotticelli per la ragione degli stipendi che ha ricevuto facciamo un appello a tutti i cittadini calabresi magistrati e avvocati di riunirsi di riunirsi al fine di chiedere la restituzione di questi stipendi primo per poi eventualmente denunciarlo primo il governo conti che aveva nominato il il dottor cotticelli capo della sanità lo sostituisce dopo questa intervista e lo sostituisce con chi lo sostituisce con il dottor zucatelli il dottor zucatelli grandissimo esperto per finalmente risanare la sanità calabrese chi è zucatelli non lo diciamo noi leggiamo insieme il fatto quotidiano quindi anche un giornale di apparato leggiamo insieme chi è zucatelli vediamolo zucatelli questa è la sua faccia guardatela bene zucatelli nuovo commissario sanità bersaniano storico del pd nel 2018 si candidò con l'eu quindi un politico di corso che cosa fa questo zucatelli vi faccio vedere l'intervista non me la facciamo vedere l'intervista perché veramente sconvolgente vi faccio vedere un fermo immagine eccolo qui zucatelli le scusate la parolaccia ma lo dice lo dice lui le le mascherine non servono a un ca puntini puntino per infettarsi servono 15 minuti con la lingua in bocca ecco zucatelli commissario della sanità calabrese in una intervista la potere guardare tutti quanti su internet questi sono i rappresentanti del nostro governo chiamati a gestire la sanità sì loro sono quelli che devono gestire la sanità devono gestire i nostri soldi devono gestire noi devono gestire i nostri tamponi avete capito avete capito dove siamo arrivati allora nei confronti di questi personaggi noi uno ad uno li citeremo per il risarcimento del danno che hanno cagionato e stanno cagionando a tutti i cittadini calabresi adesso vi voglio far vedere una notizia bomba un documento da precedenti guardate questo documento che vi faccio vedere adesso che un documento scientifico non è proprio è scientifico c'è anche una firma l'abbiamo cancellata ma abbiamo la firma quindi qualsiasi magistrato volesse vedere la firma noi abbiamo vi faccio vedere abbiamo cancellata eccola qui la firma abbiamo il documento firmato in originale sappiate un documento per cui questo filmato questo questo colloquio di questa sera condividiamolo al massimo al massimo perché è un documento bomba che bisogna assolutamente divulgare perché è una verità è una verità vedete l'ho voluto incrociare l'ho voluto incrociare con un articolo di giornale che è passato inosservato ma che dice già la verità la verità la verità però un giornale dice un qualche cosa tra le tante cose dopodiché abbiamo avuto da un medico la notizia bomba eccola qui guardate guardatela con molta attenzione esce l'altro giorno un articolo di giornale che qualche qualche dubbio qualche dubbio ce lo ce lo fa venire il professor palù il virologo vero palù ve lo ricordate è uno dei anzi forse l'unico uno dei due tre virologi esistenti reali veri quelli quelli che sono negli ospedali e nelle università così contiamo troppi falsi positivi per il virologo palù i tamponi molecolari leggete questa frase spesso individuano solo un gene del virus che significa pensiamoci bene i tamponi molecolari individuano spesso un solo gene del virus andiamo a vedere un qualche cosa poi invece vediamo certificato gran parte dei medesimi tamponi sono privi della dichiarazione delle sequenze genetiche contenute se si usa un kid di tamponi che amplifica un solo gene come si fa oggi per valorizzare si amplifica la possibilità di falsi positivi caspita ma perché allora allora noi che non capiamo nulla noi allora allora un virus contiene più geni in questo caso dicono devono essere tre i geni quindi i tamponi i tamponi vanno a cercare un solo gene ma è impossibile perché un solo gene può appartenere ad altri mille virus forse un milione di virus perché quando si trovano tutte e tre i geni allora appartengono per forza a esclusivamente a quel virus quindi è impossibile noi ci sarà impossibile ci sarà stato un errore in questo articolo di giornale no ecco qui certificato bomba che ci che finalmente ci dà chiarezza vedete noi noi non vogliamo noi non abbiamo mai fatto fino a oggi fino a oggi da sette mesi neanche una volta una polemica siamo ogni sera alle ore 19 spiegando spiegando materialmente con documenti quello che accade spiegando anzi noi poniamo le domande noi chiediamo al governo ai ministri agli scienziati del governo a tutti a tutti i comitati dateci alcune risposte noi vogliamo voi noi vi chiediamo noi vi chiediamo siamo cittadini paghiamo le tasse voi state lì perché avete uno stipendio io lavoro pago le tasse e con le mie tasse con il mio lavoro voi siete pagati quindi io sono lo stato io perché io pago le tasse voi siete il governo un'altra cosa quindi mi dovete ci dovete delle spiegazioni allora noi vi chiediamo gli scienziati ci stanno dicendo che con i tamponi per velocizzarsi per velocizzare voi voi vostri vostri le vostre autorizzazioni tamponi fanno sì che si individui un solo gene ma ci dicono gli scienziati che ne servono almeno tre di geni ma è vera questa cosa ci rispondete noi intanto vi facciamo vedere un documento vi facciamo vedere l'analisi che viene fatta in un tampone che vi fanno che vi prelevano dalla gola vi facciamo vedere come viene questa analisi e qui scoprirete come nasce un falso positivo ecco qui mi alzo perché ve lo devo far vedere in maniera ecco qui guardate ecco qui esame biologico molecolare aspettate chiedo scusa ma elimino non mi ero non mi ero accorto che c'è anche un che c'è anche un numero di telefono scusate lo sto cancellando è questione di un attimo ma non mi ero accorto per la privacy privacy lo elimino eccolo qui perfetto allora biologia molecolare materiale ecco qui tampone provenienza naso varingeo ecco qui eccoli qua i tre geni vedete ecco qui sars covid eccolo qui ecco qui il secondo ecco qui il terzo guardateli guardiamo guarda ecco qui no primo gene non rilevato secondo gene non rilevato eccolo qui guardatelo terzo gene rilevato un guardare su tre due non rilevati questo non è rilevato ecco in questo caso scientificamente scientificamente non può essere assolutamente positivo perché su tre geni trovarne uno solo non consente in nessunissimo modo di dire che è positivo positivo eccolo qui guardatelo guardate su tre geni uno solo positivo positivo e perché fanno questo ecco il motivo dal 2 aprile 2020 in accordo con il centro coordinamento regionale quindi un accordo guardate un accordo tra uffici in accordo con il coordinamento regionale la rivelazione di un singolo gene viene interpretato guardate questa frase scrivetela fotografatela viene interpretato come esame positivo guardate fotografatelo questo è un documento storico è un documento storico passerà alla storia ve lo faccio vedere anche meglio eccolo qui potete fotografarlo quindi viene interpretato ma vi rendete conto che le centinaia di migliaia i milioni di test a cui siamo sottoposti sono interpretati interpretati ma questo è sconvolgente questo è sconvolgente e allora per terminare questa brevissima nostra chiacchierata stasera ho l'onore di dirvi che insieme a un gruppo nutritissimo di avvocati e tra questi i primi firmatari sono l'avvocato santi l'avvocato murigia l'avvocato lillo musso il sottoscritto ed altre decine decine di avvocati giovedì giovedì sarà resa pubblica con una conferenza stampa la più grande class session di risarcimento del danno che verrà richiesto da decine se non centinaia di migliaia di cittadini italiani al governo italiano per tutte quante le illegittimità che sono state create per tutte quanti gli errori per tutti quanti le illegittimità illecità per tutte quante le false notizie per tutta quanta la disorganizzazione creata per tutti i danni creati psicologicamente moralmente materialmente ai singoli cittadini ai bambini ai figli alle partite iva agli imprenditori ai produttori con una grandissima class session giovedì nel corso della conferenza stampa che ha indetto che è stata indetta che sta presentata alla camera deputati vi daremo conto di questa grandissima iniziativa a cui ogni singolo cittadino potrà partecipare questo è il nostro contributo il nostro contributo di fede al popolo italiano ci sentiamo nelle prossime ore un abbraccio a tutti